Il primo è che io lo passo, il mio figlio sta accadendo, ho 13 ore di viaggio stavolta Quanto fia? Sì, sì, io so Ma come è che si, come è che mi fai un po' così? Non so, voglio dire i miei messaggi Non so, non so, non so, non so, non è che mi fai un po' così No, ma nel senso Grazie 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 Grazie